La Viscades, morale dipinto nel 1985 da Paolo Meneghesso. Il pittore Paolo Meneghesso nasce a Padova nel 1932 e muore nel 2019. Formatosi all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, fu allievo di Bruno Saetti. Viene considerato uno dei maggiori esponenti della pittura veneta della seconda metà del Novecento, capace di evolvere la propria poetica nel tempo, pur rimanendo fedele a uno stile immediatamente riconoscibile, avendo elaborato un linguaggio artistico personalissimo. Nel 1985 il Museo a cielo aperto di Cibiana si arricchisce di tre nuove opere, La Cambera de Tita di Lorenzo Viola, L'osellador di Ernesto Treccani e La Viscades di Paolo Meneghesso. Per pura casualità queste ultime due trattano lo stesso argomento, la caccia agli uccelli, attività necessarie per assicurare alla famiglia il pasto quotidiano. Al mattino, prima di andare a lavorare i campi, si predisponevano le trappole. Venivano preparati i legni in trisi di vischio, sostanza appiccicosa che avrebbe trattenuto il malcapitato volatile e venivano sistemati i richiami con altri uccelli chiusi in gabbie. La sera si sarebbe tornati a raccogliere le prede. Il murale realizzato in una originale forma trapezoidale, per seguire la pendenza della scala esterna della casa su cui è dipinto, prospetta caratteristiche espressioniste ed una pittorica di forte sintesi che tuttavia non impedisce una precisa lettura degli elementi salienti. Questo ci permette di vivere la battuta di caccia in sintonia con la natura che ci circonda, edulcorata da qualsiasi acceno di violenza sugli animali, in una sorta di equilibrio tra tutti gli esseri viventi rappresentati, grazie al sapiente dosaggio di luci ed ombre che compongono e scompongono l'immagine in aree tra di loro in forte contrasto, ma in una generale armonia di masse e forme.